Scarperia Palaggio Qui si inizia a frenare quasi al cartello dei 50 metri, scalando dalla quarta alla terza marcia e ritardando l'inserimento, si lascia correre la moto sfiorando il cordolo interno con il ginocchio e tenendo bene la corda ancora per un istante, per poi cambiare velocemente direzione sulla sinistra, cercando di non passare sul dosso adiacente l'inizio del cordolo interno. In uscita ci si proietta con le ruote tra il cordolo e quel triangolino di pista che divide l'erba dall'asfalto. Si tira tutta la terza marcia inserendo la quarta per arrivare al correntaio.